Vando prima di tutto ti volevo chiedere come rivivere appunto nel tuo quartiere queste esperienze, che giornata è stata oggi per te? È stata una giornata bellissima perché so che significa essere a Scampia, perché sono crescito qua, sono nato qua e questi ragazzi e questi bambini meritano tutto perché le loro famiglie e loro fanno tantissimi sacrifici per arrivare dove sono io, quindi sono troppo orgoglioso di essere venuto qua. Sempre bello ovviamente tornare a Napoli per te, hai fatto una gran stagione, quali sono le tue prospettive? Le mie prospettive sono di continuare a fare bene, poi c'è il mio procuratore che lavora per il mercato e sarà lui a decidere la mia scelta. In quanto riguarda il Napoli è inutile che ti chiedi del futuro, però ti volevo chiedere due considerazioni sulla stagione degli azzurri. Niente, ha meritato il secondo posto e sarà giocato a fine alla fine per il compattuto per lo Scudetto, perché sappiamo che la partita decisiva è stata quella lì di Torino, perso il novantesimo. È stato un campionato strepitoso, godiamoci questa stagione del Napoli perché ha fatto grandi cose, quindi godiamoci la Champions l'anno prossimo. Grazie Armando. Grazie mille. Bye.